Ben trovati da Andrea Lazzara con le previsioni del tempo di Arpal. Giovedì soleggiato salvo temporali nell'interno di Ponente, locale estensione alla costa. Domani venerdì aumento dell'instabilità per l'arrivo di una saccatura da ovest. Sabato miglioramento e temperatura in aumento anche per locali effetti favonici. Il dettaglio oggi giovedì 28 luglio soleggiato lungo le coste. Instabilità pomeridiana già a partire dall'immediato introterra con possibili temporali sparsi di intensità moderata. I fenomeni potranno estendersi localmente nel tardo pomeriggio alle coste di Ponente. Venti deboli in prevalente regime di brezza, mare poco mosso, temperature massime in lieve aumento lungo la costa tra 31 e 33 gradi, nelle zone interne tra 30 e 34 gradi. Domani venerdì 29 luglio aumento dell'instabilità da prima lungo le zone interne di Ponente in serata sul centro Levante. Rovesci temporali sparsi localmente di forte intensità, venti deboli moderati meridionali in rotazione da settentrione, mare poco mosso localmente mosso a largo dell'imperiese in serata. Temperature in genere stazionarie in calo dalla sera, minime lungo la costa tra 23 e 25 gradi nelle zone interne tra 18 e 19 gradi, massime lungo la costa tra 30 e 33 gradi nelle zone interne tra 29 e 34 gradi. Dopodomani sabato 30 luglio al mattino residua instabilità sullo spezzino ma in rapido miglioramento, altrove sereno poco nuvoloso grazie all'arrivo di venti più secchi settentrionali con possibili episodi favonici. Venti moderati localmente forti settentrionali, possibili regimi di brezze ma restirato sotto costa sul centro Ponente, mosso levante, temperature minimi in diminuzione lungo la costa tra 22 e 24 gradi nelle zone interne intorno a 17 e 18 gradi, massime in aumento lungo la costa tra 31 e 35 gradi nelle zone interne tra 32 e 34 gradi. È tutto, seguite gli aggiornamenti su arpal.liguria.it, sulla pagina facebook di Arpal, sul profilo instagram dell'agenzia e ricordate di scaricare l'app Meteo 3R disponibile su Google Play e Apple Store. A risentirci!